Al Blanca Cruz lo spettacolo Fuori Mano, ospite Sandro Ruotolo. Il 6 luglio al Blanca Cruz lo spettacolo Fuori Mano con protagonisti importanti ed organizzato da Gianluca Squillace. Al centro dello spettacolo La Periferia. Si tratta di un reading concerto con Sandro Ruotolo. Il 6 luglio abbiamo pensato di organizzare questo spettacolo che è nato dalle telefonate mie con Daniele Sansone quest'inverno. Il titolo è Fuori Mano ed è La Periferia il tema principale ed è un reading concerto. Cioè si parlerà della Periferia con Sandro Ruotolo quindi come giornalista, con Peppe Lanzetta come attore di teatro e con Eletti Statti, Gennaro Mano, Daniele Sansone e Peppe Fonte dove appunto sarà un insieme su un unico argomento e si intreccerà la prosa, la poesia, la musica e il giornalismo. In uno scenario di incomparabile bellezza qual è il Blanca Cruz? Quindi insomma si preannuncia una serata tutta da vivere. Sì, diciamo la location è quella del Blanca che ha già visto gli omaggi all'idea del jazz l'anno scorso a Pino Daniele con l'invito di Claudio Poggi e Daniele Sansone. Vorrei ringraziare Attilio Armone per il MUMAC, lo spazio, questo museo delle ancore antiche del mare che è veramente molto bello dove inviterò anche gli artisti il giorno prima a visitarlo. e vorrei, ci tengo a dire una cosa importante che nell'unica data di questo fuorimano Sandro Ruotolo sarà presente solo in questa data qui a Catanzaro quindi è un evento per me, è un motivo d'orgoglio diciamo. Organizzato del tutto gratuitamente, senza sponsor pubblici solo grazie all'associazione Chimera e alla volontà di Gianluca Squilla. Sì, lo sforzo che abbiamo fatto è rendere con ingresso gratuito questo spettacolo grazie al lavoro che ha fatto anche Luigi Confort e l'associazione Chimera e ringraziare chiaramente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto per questo evento di qualità e quindi un ringraziamento particolare va a tutti loro. Grazie a tutti.